A una settimana dalla intensa nevicata che ha interessato l'intero territorio abruzzese sono ancora migliaia le persone rimaste senza corrente elettrica. Solo nel Terramano sono 4.000 le utenze senza elettricità. La procura di Teramo, guidata da procuratore Antonio Guerriero, ha creato un gruppo di lavoro per valutare le denunce, ricostruire cosa è accaduto prima della fase emergenziale e fare chiarezza su ruoli ed eventuali responsabilità. Il fascicolo è stato aperto dopo le denunce presentate contro l'Enel dai diversi sindaci della provincia e da numerosi cittadini alle prese con i blackout elettrici. La mancanza di elettricità, spesso, è stata provocata dal crollo delle linee elettriche. Secondo l'associazione Codici, i danni potevano essere limitati se vi fosse stata un'adeguata azione preventiva e di manutenzione. Dalle prime notizie emerge infatti una grave responsabilità della società nell'interruzione della corrente elettrica avvenuta principalmente non a causa delle forti nevicate ma a causa degli alberi che si sono abbattuti sulle linee elettriche. e che non dovevano essere nelle loro vicinanze. Inoltre, la difficoltà di arrivo dei mezzi alle centrali sul territorio è causa della inadeguata manutenzione delle aree di accesso. Infine, evidenzia l'associazione che tutela i diritti dei cittadini, anche l'attività in emergenza è stata totalmente inadeguata rispetto ad un evento ampiamente annunciato per il quale l'Enel avrebbe messo a disposizione poche squadre di pronto intervento locali con un'adeguata conoscenza del territorio. Il sindaco di Mociano Sant'Angelo, Giuliano Galiffi, che già da giovedì scorso ha presentato un esposto in procura, denuncia l'atteggiamento scorretto dell'Enel che anziché dare risposte ai cittadini e risolvere i problemi avrebbe rimbalzato il problema sull'amministrazione comunale. Il primo cittadino di Notaresco, Diego Di Bonaventura, così come il sindaco di Montorio Albomano, Gianni Vicenta, si dice pronto a presentare un esposto e una richiesta di risarcimento danni appena finita l'emergenza. Ora penso all'emergenza e risolvere i problemi della gente, ha dichiarato il sindaco. Quello che è successo è veramente scandaloso. Il sindaco di Montorio Albomano, inoltre, denuncia il sistema inadeguato di rifornimento dei generatori allacciati dall'Enel per rifornire le zone rimaste senza elettricità. Dopo qualche ora di produzione di energia elettrica, denuncia il primo cittadino, i generatori si spengono per mancanza di carburante. Le ditte che dovrebbero occuparsi del rifornimento non lo effettuano a scadenze regolari, ma solo se preventivamente avvisate.